questo Sanremo per me è stato stranissimo perché ci sono arrivato veramente in sordina nel senso non ho voluto nemmeno l'autista che mi venisse a prendere mi sono messo in macchina e ci sono arrivato da solo tanto ci sto andando con una canzone che non è scoppiettante che non ha fuochi d'artificio dentro e che ha bisogno di almeno 3-4 ascolti per entrare in qualche modo perché era quello che più o meno mi avevano detto tutti invece scoprirmi al primo posto la prima sera, al primo posto la seconda sera e poi nella somma anche la terza per me è stata una sorpresa veramente gigantesca non sono arrivato domenica qui con intenzioni battagliere ma tutt'altro avevo solo voglia di cantare una canzone una canzone anche molto diversa rispetto alle altre che avevo presentato al festival negli anni passati e invece la sorpresa è stata doppia perché sono stato inondato dall'affetto delle persone e insomma mi è arrivata addosso una valanga di stima che se dovessi scrivere oggi una canzone che tipo di sonorità avrebbe? guarda in questo momento ho una gran voglia di immaginare una canzone semplicemente chitarra e voce questa canzone avrei voluto portarla qui piano e voce solo che mi sembrava uno spreco terribile non suonare con l'orchestra e quindi ho detto no, devo provare assolutamente ad arrangiarla perché l'avevo raccontato quella volta scorsa durante la conferenza stampa del disco ho fatto tre arrangiamenti di questa canzone i primi due si sono rifiutati fortemente di avere al proprio interno gli elementi che ho utilizzato in questi due arrangiamenti quindi era come se ci fosse qualcosa che prendeva tutto quello che utilizzavo e lo accompagnasse alla porta in sostanza quindi ci sono stati una serie di accorgimenti che mi hanno portato a un risultato che poi ho ritenuto soddisfacente poi dopo questo entriamo nel campo del gusto c'è chi non piace, c'è chi piace, eccetera, eccetera, eccetera però io mi ritengo molto soddisfatto Amiria piace, sì, ma lei è molto timida un giorno vi racconto questa, è stato bellissimo l'estate scorsa ero in vacanza con lei, insomma con la famiglia ad un certo punto lei stava ascoltando una canzone adesso non ricordo esattamente, però le canzoni che amano i bambini e io non ho fatto caso a quanto lei stesse ascoltando con attenzione questa canzone quindi coincide che mia sorella mi dice ma mi fai sentire quel pezzo che mi ha fatto sentire l'altro giorno che è una canzone che si trova all'interno dell'album che sta per uscire allora io non mi sono, insomma per mia colpa, non curante ho tolto quella canzone e ho messo la mia canzone Miria mi ha imbruttito ma non ha detto niente quando è finita la canzone si è avvicinata e ha detto zio devo dirti una cosa, dimmi amore, fa schifo la tua canzone e se n'è andata insomma c'è un rapporto un po' così è una bambina estremamente schietta e sincera ma è adorabile al contrario degli altri dischi che ho fatto ogni volta che ho scritto una canzone in passato mi immaginavo di essere su un palco con la voglia di suonarla dal vivo però il punto di vista era sempre dal palco verso le persone invece a questo giro siccome non riuscivo nemmeno a immaginarmi su un palco ho detto ok adesso mi metto in platea e quindi ho scritto delle canzoni immaginando di essere circondato da alcune persone molto spesso mi sono ritrovato a chiedere a delle persone immaginari com'è, ti piace, che ne pensi di questa seconda strofa e poi in realtà intorno non c'era nessuno però ho continuato a parlare incessantemente durante la scrittura grazie 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 grazie